Buon pomeriggio, buona via di settimana anche dalle telegiornali. In primo piano c'è un incidente che da questa mattina ha messo in difficoltà molti automobilisti in transito a Brescia. È successo in autostrada sulla 4 del tratto tra Brescia Centro e Brescia Ovest. Uscita obbligatoria a Brescia Centro con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino, in particolare sulla tangenziale. Vediamo. Incidente attorno alle 7 di questa mattina sull'autostrada 4 nel tratto fra Brescia Centro e Brescia Ovest. Sarebbe restato coinvolto un mezzo pesante e il tratto è stato chiuso al traffico con conseguenti disagi anche sulla viabilità ordinaria. Sembrerebbe che durante la marcia il camion abbia impattato contro il guardrail e perso un mezzo d'opera che cadendo avrebbe anche danneggiato la strada. Nell'incidente sarebbe coinvolto un uomo di 43 anni che però non ha riportato ferite e ha quindi rifiutato il ricovero in ospedale. È stato chiuso il tratto dell'autostrada fra i due caselli in direzione di Torino e per chi arrivava da Venezia c'era l'uscita obbligatoria a Brescia Centro. Non era possibile nemmeno immettersi sull'autostrada da quel punto di accesso. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco di Brescia e la polizia stradale. Siamo all'emergenza Covid. Ieri da Regione Lombardia, zero decessi ma 285 nuovi positivi, 59 nella nostra provincia. Questi sono i dati comunicati da Regione. Regione che per voce dell'assessore Gallera e anche del presidente Fontana frena sul fatto che non ci siano stati decessi. Questi dicono la comunicazione che abbiamo avuto dai vari anagrafe e dalle varie strutture locali. Insomma, il caos dati continua e anzi a questo punto forse c'è anche bisogno di qualche dato in più per fare chiarezza su questi numeri. È come essere sulle montagne russe. Ogni giorno un sussulto, una discesa e una rapida risalita. Numeri che in Lombardia e nella nostra provincia non calano. Diminuiscono ovunque ma non in Lombardia. Il bollettino della Regione è un concentrato di numeri con tanti più e qualche meno e qualche paragone. Numeri che sono una somma algebrica più che una fotografia di una situazione. Ora dobbiamo capire e per farlo ai numeri dovranno seguire dei dati. Quando sono stati realizzati i tamponi con esito positivo? Dove sono stati realizzati? In quale paese? Chi sono le persone e i risultati positive? Non vogliamo certo conoscere il nome ma sapere se il medico di base è informato e se le procedure di profilassi sono state attivate. Ieri ad esempio nel Bresciano la Regione ha comunicato 59 nuovi positivi. Nel Bresciano dove? Sono tutti a Brescia o quanti sono nel Comune Capoluogo? Quanti in provincia? Quanti sono concentrati in un paese? Ecco, sono tutte le risposte alle quali vorremmo avere una risposta per capire esattamente com'è la situazione epidemiologica e di contagio nella nostra provincia. Questo è perlomeno quello che noi ci stiamo chiedendo a questo riguardo. Vi porto sul nostro sito internet perché a questo proposito non calano le polemiche per quanto riguarda quanto è successo nella giornata di venerdì, prima serata di apertura in Piazzale Arnaldo per tutti i locali. Polemiche che continuano, del buono il sindaco della città ha detto in piazza ieri non hanno funzionato un po' di cose, ha detto il primo cittadino della città. Staremo un po' a vedere in queste ore come ci sarà l'evoluzione della vicenda. Ricordiamo che per domani è stato convocato un comitato per l'ordine della sicurezza pubblica in prefettura proprio per cercare di capire, ecco la nostra pagina Facebook, la nostra pagina del sito per cercare di definire come riaprire e in che modo procedere per il prossimo weekend in Piazzale Arnaldo e in tutte le zone limitrofe perché è inevitabile che qualcosa non sia funzionato nella prima serata di apertura. Rimaniamo sul nostro sito internet perché nell'emergenza Covid ora ci sono anche, torniamo a parlare degli infermieri perché parte la loro campagna, mai più come prima sul web e sul social le foto testimonianze degli infermieri che sono stati in prima linea contro il Covid. A questo proposito gli infermieri ora giustamente dicono non chiamateci eroi, non l'hanno mai chiesto, piuttosto riconosceteci la nostra professione, dite che siamo dei professionisti che hanno lavorato, hanno fatto il loro dovere come sempre e ovviamente ora dicono mai più come prima, mai più andare in prima linea senza i DPI, senza le mascherine, quindi senza i guanti, senza le protezioni necessarie per la nostra difesa e ovviamente anche da un punto di vista retributivo l'adeguamento che è giusto riconoscere a chi lavora appunto in prima linea con tanto rischio. Questa è la campagna che parte proprio quest'oggi. Voltiamo pagina, vediamo invece alla giornata di oggi che dà il via a una serie di ripartenze, riaperture, chiamiamole così, per quanto riguarda i parrucchieri, estetisti e tatuatori c'è per quanto riguarda il comune di Brescia una delibera, una ordinanza del sindaco che consente l'estensione dell'apertura dei negozi. Da oggi nuovi orari per parrucchieri, estetisti e tatuatori che a Brescia potranno aprire tutti i giorni dalle 7 alle 21 con chiusura anticipata alle 19 la domenica. Lo ha deciso il sindaco del Bono firmando un'ordinanza valida fino al 31 ottobre che vuole favorire la ripresa economica di queste attività, fortemente colpite dalla chiusura determinata dall'emergenza Covid e penalizzate dalla necessità di affrontare il riavvio del lavoro nelle condizioni di sicurezza che prevedono di svolgere i servizi solo su appuntamento al fine di evitare assembramenti nelle rispettive sale d'attesa. Non sarà previsto nemmeno l'obbligo di chiusura infrasettimanale o festiva ma il nuovo orario, deciso da ogni negozio, dovrà essere affisso e ben visibile al pubblico così come il tariffario. Il responsabile tecnico dovrà sempre essere presente durante lo svolgimento delle attività e in caso di assenza temporanea o eccedenza dell'orario lavorativo dovrà essere previsto un sostituto. In termini di riaperture, ieri 24 maggio, diciamo che potremmo definirla la domenica nella quale è iniziata la stagione turistica anche sul Lago di Garda siamo andati a Desenzano per vedere un po' come è la situazione. Vediamo. Volevamo farvi vedere qualcosa di più a dire la verità ma c'è stato un problema con il servizio c'è anche un nostro focus in chiusura di giornale nel corso del quale vi racconteremo ma siamo andati appunto a sentire coloro che iniziavano la stagione ovvero appunto questa struttura che affitta i pedalò a Desenzano del Garda così come al Desenzanino dove c'erano lettini, ombrelloni e qualunque bar proprio tutto a distanza, tutto igienizzato. Tra poco vi racconteremo come è stata questa partenza a Desenzano. Per la Coraco dobbiamo dire che c'erano ancora molti hotel chiusi e poi andremo un po' a verificare nei prossimi giorni. Parliamo ora invece del concorso degli insegnanti perché c'è stato l'accordo all'interno del governo inserito nel decreto scuola per il nuovo concorso. Vediamo. Il ministro dell'istruzione Lucia Zolina considera positiva la soluzione sul concorso straordinario per la scuola e si definisce soddisfatta per l'accordo raggiunto sulla scuola. Vogliamo ridurre il precariato per dare più stabilità alla scuola e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito, dice. La proposta del Presidente del Consiglio va in questa direzione confermando il concorso come percorso di reclutamento per i docenti. Viene accolta la richiesta di modificare la modalità della prova eliminando i quiz a crocette che erano stati previsti nel decreto scuola votato a dicembre in Parlamento. Questa prova sarà sostituita con uno scritto in modo da garantire una selezione ancora più meritocratica. Azzolina ha spiegato che ora occorre lavorare rapidamente insieme al Parlamento per tradurre la misura in una norma da introdurre nel decreto scuola. Abbiamo 78.000 insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo tra concorsi ordinari e concorso straordinario, spiega il Ministro. Tra gli aspiranti anche migliaia di giovani che si preparano da tempo e vogliono avere la loro occasione per cominciare a insegnare. Sono numeri importanti e dobbiamo fare presto. La scuola ha bisogno di stabilità e programmazione. In passato tutto questo è mancato. Possiamo davvero voltare pagina e farlo nell'interesse dei nostri ragazzi, conclude il Ministro. E siamo allo sport con una Serie A che sembra ormai pronta a ripartire perlomeno anche stando alle ultime dichiarazioni del Ministro Spadafora ma è una decisione in tal senso, sapete, è prevista per il 28 maggio per avere la certezza di cosa dirà il Governo. ma ora c'è il CONI che comincia a frenare. In ogni caso sapremo se il campionato riprenderà il 13, il 20 di giugno. Queste sono le due date possibili o meno. Stiamo parlando ovviamente del campionato di Serie A. Vediamo in casa Brescia invece dove c'è sempre un nuovo caso Balotelli. Fra Mario Balotelli e il Brescia è in atto una convivenza difficile e complicata. Il ritorno agli allenamenti ha messo in mostra tutta la freddezza del club verso l'attaccante bresciano. Da tre giorni a questa parte Super Mario si allena in solitaria sui campi del settore giovanile a differenza dei compagni che pur svolgendo lavori differenziati corrono e si allenano sui campi destinati alla prima squadra. L'aria attorno al calciatore si è fatta pesante e il rischio è di una convivenza da qui al termine della stagione difficile e complicata. L'umore di Balotelli per questo trattamento differenziato rispetto agli altri infatti non è dei migliori e l'avrebbe anche fatto notare. Determinante sarà la posizione di Diego Lopez atteso a torbole in queste ore con il tecnico legato a Balotelli tanto da averlo eletto capitano nelle gare prima del lockdown. Di certo la situazione attorno all'attaccante in odore di partenza a fine stagione è sempre più complicata. Saremo a vedere anche questo nelle prossime ore e prima di chiudere vi ricordo che da oggi tornano operative a Brescia le ZTL e i parcometri. Quindi attenzione perché dopo più di due mesi da oggi le ZTL, le zone a traffico limitato saranno chiuse quindi sarà necessario avere il permesso per accedervi al centro storico e tornano a pagamento le strisce blu e i parcometri. E quindi diciamo che questo perlomeno torna alla normalità nel nostro comune di Brescia. Sul nostro sito tutte le notizie continuano ad aggiornarsi anche in questo pomeriggio, nelle prossime ore e livebrescia.tv così come potete seguire anche dal vostro smartphone, tablet o pc il nostro canale 16197 delle digitali terrestre in questo box che è appunto espandibile a tutto schermo. Come sempre se volete invece ricevere le nostre notizie direttamente sul vostro smartphone non dovete fra l'altro che iscrivervi ai nostri canali e live Brescia News e live Brescia Sport su Telegram. Noi ci fermiamo qui vi lascio dopo la sigla al focus dedicato alla stagione che riparte perlomeno ieri era abbastanza confortante vedere tutto in ordine ma insomma gente sotto l'ombrellone sui lettini a prendere il sole gente in pedalò questo ci faceva ben sperare tutti con la mascherina tutti però molto ossequiosi delle norme lo vedrete tra poco nel servizio noi ci vediamo invece stasera alle 19 con l'edizione serale grazie a tutti e buon pomeriggio Pedalò in acqua e allora la stagione è iniziata comunque? è iniziata da ieri per me sì ieri poca gente in giro oggi ha cominciato a migliorare la situazione e mi auguro che durante la stagione ci sia comunque almeno gli italiani soprattutto che abbiano voglia dopo tanti mesi chiusi in casa di vivere l'estate sui miei pedalò e nei lettini vediamo che appunto insomma i pedalò ne sono usciti parecchi mentre appunto eravamo qua in qualche minuto quindi vuol dire che insomma c'è voglia in questo momento ho capito che c'è ancora tanta volta c'è ancora tanta titubanza non capiscono molto cosa possono e non possono fare però secondo me sono ottimista almeno sto cercando di organizzare la spiaggia al meglio per poter dare sicurezza e un po' di come vi siete organizzati? io ho costruito adesso devo finire di mettere fuori bene i cartelli comunque due corridoi di entrate e di uscita i lettini distanziati un punto solo dove escono i pedalò e poi dopo penso di organizzare anche dei tavolini dove portare da mangiare da sporto in modo che comunque la gente non affolla i ristoranti e collaboro con i ristoranti dei dintorni e anche per quanto riguarda il pedalò tavolini e i lettini tutto sanificato? ovviamente ogni cambio di pedalò si sanifica il pedalò ogni cambio di lettini alla mattina si sanifica tutto poi ogni cambio di lettini si sanifica sanifico i salvagenti che do in dotazione e sanifico tutto anche per voi molto più lavoro più spese i prezzi come sono stati? li avete tenuti come l'anno scorso? sì io ho mantenuto proprio i prezzi dell'anno scorso anzi non mi attento assolutamente a crescere spero almeno solo di arrivare alla prossima stagione per cui secondo me quest'anno l'importante è andare avanti poi magari per il guadagno magari aspetti alla prossima stagione come avete riaperto? abbiamo riaperto in sicurezza perché altrimenti non si può fare dobbiamo seguire quello decreto della regione del comune dello stato abbiamo messo i tavoli a un metro e mezzo cioè le persone al bar devono stare a un metro di distanza a meno che non siano amici o amici fidanzati o parenti poi naturalmente i tavoli della spiaggia degli ombrelloni abbiamo messo uno sì uno no in una spiaggetta tipo 60 60 tavoli che stavano 120 persone prima adesso ce ne stanno solo 30 per cui 30 al massimo 40 perché se per caso c'è qualche parente appunto che sta assieme e basta si stanno comportando abbastanza bene se riusciamo a contenerli perché sa dopo due mesi di ristrettezze stanno venendo fuori che sono un po' impazziti sono difficili a contenere ecco esatto e niente e dopo ovviamente anche la sanificazione l'igienizzazione ogni volta dobbiamo igienizzare ogni tanto andiamo fuori a igienizzare i lettini sono stati igienizzati tutte le stelle prima di metterli via li igienizziamo igienizziamo tutto praticamente ci siamo igienizzati anche noi tra un po' tanto lavoro e anche altri costi immagino ah sì tanto lavoro altri costi per quanto riguarda i prodotti e le ore anche del personale perché certo il colpo d'occhio però oggi devo dire che dà anche una bella soddisfazione una parvenza di ritorno vero alla normalità sì in effetti pensavo che non ci fosse così tanto afflusso però contenuto ecco un afflusso contenuto moderato ed educato almeno per oggi moderatamente soddisfatta ok moderatamente ottimista per la stagione speriamo guarda veramente ci spero veramente di riuscire a recuperare un po' i mesi che abbiamo perso sarà difficile perché i costi sono troppo alti che di riuscire a recuperare un po' i mesi di riuscire a recuperare un po' i mesi di riuscire a recuperare